Benvenuti dalla redazione di Cronaca e Fermano di un nuovo appuntamento con l'informazione locale nel GR di Radiofermo 1. In studio Andrea Braconi e Paolo Paoletti. Ecco i titoli. Droga maledetta, due giovani in overdose nella notte, i dubbi sulla presenza di una partita nel Fermano. Scontro tra auto e un tir lungo l'autostrada a 14, un uomo muore nel tratto tra Ancona Sud e l'Oretoporto Recanati. È stato un 2 giugno ricco di iniziative per la prefettura, prima la cerimonia tra Duomo, Cirfalco e Piazza del Popolo, poi il grande evento al Teatro dell'Aquila. Il coreografo dei combattimenti del film Kill Bill di Tarantino è sui Sibillini per far conoscere ai giapponesi le bellezze del nostro territorio. Il punto su weekend sportivo con il colpaccio del Porto Sant'Elpidio che ora sogna la promozione. Droga maledetta, due overdose nella notte, partita letale nel Fermano, questo l'interrogativo e le ipotesi sulle quali stanno indagando le forze dell'ordine. Ma sentiamo a riguardo Giorgio Fedeli. Due overdose nell'arco di poche ore nel sottobosco della tossicodipendenza e allarme. Questa notte nel Fermano due ragazzi sono stati soccorsi per un overdose, dicevamo. Il primo a Porto Sant'Giorgio, mentre la seconda una ragazza nell'entroterra a Fermano. I due giovani sono stati salvati giusto in tempo dai sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa di Ascoli Piceno. Nel primo caso a intervenire sono stati i sanitari della pubblica assistenza Croce Azzurra di Porto Sant'Giorgio in pieno centro. I militi san giorgesi hanno soccorso un ragazzo residente nel Fermano. Quasi in contemporanea, dicevamo, dall'entroterra, altra chiamata al 118, una richiesta di soccorso per una ragazza in overdose. E anche in questo caso i sanitari sono arrivati a sirene spiegate, riuscendo a salvare la giovane. Due casi a distanza di poche ore che fanno drizzare le antenne al sottobosco della tossicodipendenza nel Fermano e anche quelle delle forze dell'ordine che sono già al lavoro per cercare di capire se i due casi siano frutto di una inquietante coincidenza o se siano conseguenza di una partita di droga letale sbarcata in queste ore nel Fermano. E c'è stato un morto nel pomeriggio di oggi dopo uno scontro tra un'auto e un tir lungo la A14. È successo poco dopo le 13 nel tratto tra Ancona Sud e Loreto Porto Recanati in direzione Pescara. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Ancona e Osimo, le pattuglie della polizia stradale oltre al personale della direzione di tronco di Pescara di autostrade per l'Italia. La dinamica del sinistro è al vaio della polizia autostradale di Porto San Giorgio, intervenuta sul posto con il suo comandante. Secondo le prime sommari informazioni sembra che l'auto, ferma nella corsia d'emergenza per la sostituzione di un pneumatico forato, sarebbe stata centrata per cause da mettere ancora a fuoco da un camion in transito. Lo scontro è avvenuto al chilometro 242 sulla corsia sud a poca distanza, come detto dal casello di Loreto Porto Recanati. Parliamo delle celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, avute luogo a Fermo e nei comuni del territorio, ma ovviamente poi le iniziative della Prefettura hanno visto il comune di Fermo come capoluogo e quindi centro di quelle che sono state le varie iniziative e i vari appuntamenti. La Santa Messa nel Duomo, la cerimonia al monumento ai caduti di tutte le guerre al Girfalco e l'omaggio alla targa celebrativa in Piazza del Popolo. Questa è stata la mattinata di ieri nella città di Fermo in occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica. Un 2 giugno scandito dalle parole dell'Arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio, dall'altare della cattedrale, dalla lettura del messaggio del presidente Mattarella da parte del prefetto Vincenza Filippi nel piazzale Girfalco e dal silenzio che ha accompagnato il rituale ricordo di chi per difendere l'Italia diede la vita. Nel pomeriggio ci si è spostati poi all'interno del Teatro dell'Aquila per quella che è stata la cerimonia istituzionale di consegna delle onorificenze di cavalierato e delle medaglie della medaglia d'oro conferita dal presidente della Repubblica. Sono stati insigniti i cavalieri al merito della Repubblica Italiana Massimo Catinari, Franco Fortuna, Giuseppe Natarella, Franco Petrini, Stefano Ricci. Insieme a loro anche Marco Lambruschi, sostituto direttore antincendi capo esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il ruolo decisivo avuto nella gestione del sisma che ha colpito la provincia fermana e non solo, assicurando una preziosa collaborazione anche con il Centro Coordinamento Soccorsi, facente capo alla prefettura della provincia di Fermo. Tra gli altri insigniti anche Antonino Nosdeo e Fabio Frontoni. Una serata che è poi proseguita con la consegna delle medaglie d'oro del capo dello Stato ai cittadini deportati nei lager nazisti. Un momento toccante quando sono saliti sul palco i familiari di Raffaele del Gobbo di Ortezzano e Alfredo Quintili di Porto San Giorgio, entrambi internati nei campi di lavoro in Germania rispettivamente dal 9 settembre del 43 al 1 settembre del 45 e dal 12 settembre del 43 al 2 settembre del 1945. È stata poi la volta dello spettacolo con protagonisti la Corale Polifonica, città di Porto Sant'Elpidio, le scuole Montani di Fermo, il liceo classico Andibalcaro, il conservatorio Pergolesi di Fermo, con una sorpresa finale l'esibizione del primo oboe dell'Accademia Santa Cecilia di Roma, nonché cittadino montegranarese doc Francesco Di Rosa. Alcuni cittadini nei giorni scorsi hanno segnalato con tanto di foto agli uffici comunali di Fermo la comparsa di una nuova installazione nei pressi di Via Monza, nel quartiere Lido, ma quello che poteva far pensare o preoccupare si è rivelato tutt'altro. Si è trattato infatti della nuova centralina per il rilevamento dei dati elettromagnetici. È finalmente operativa dunque dopo quella del cimitero, anche quella a Lido di Fermo. È trascorso circa un mese dal Consiglio Comunale che aveva approvato l'adozione definitiva della variante per l'installazione di stazioni radiobase per la telefonia mobile, atto necessario con cui l'amministrazione comunale ha voluto disciplinare la localizzazione e fornire indicazioni per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile, con l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dalla loro attivazione, un efficace modello di controllo ambientale e sanitario per verificare il rispetto delle norme ed assicurare la corretta informazione dei cittadini e degli amministratori. A corollario del nuovo strumento urbanistico e nel rispetto dell'impegno assunto con i cittadini, l'amministrazione sta quindi installando le varie centraline per il monitoraggio delle frequenze. Ci spostiamo a Sarnano, ecco la giunta che affiancherà il sindaco Piergentili. Dunque dopo la vittoria alle elezioni comunali, ora il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili, ha pronta anche la squadra di giunta dall'amministrazione comunale, fanno sapere infatti che il primo cittadino terrà per sé le deleghe ai lavori pubblici, viabilità e ambiente. Vice sindaco sarà il primo cittadino uscente, Franco Ceregioli, che si occuperà anche di bilancio, società partecipate, turismo e ricostruzione post-sisma. A Stefano Censori, la cultura, lo sport, il personale, la protezione civile e il rapporto con le associazioni. A Stefania, innamorati, le attività produttive, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pubblica istruzione, i trasporti pubblici, i beni e i servizi. A Floriana Pesci, infine, alle politiche sociali, la disabilità e il verde pubblico e il decoro. Conferite anche le deleghe ai consiglieri. A Paolo, Maria del Giudice, Sanità e Montagna. A Ermanno Dell'Agnolo, Urbanissica, Piano Regolatore partecipato, Fondi Europei. A Lucia Gentili, Politiche giovanili e Pari Opportunità. Mentre a Marisa Papi, la Casa di Riposo e le politiche per la terza età. E parliamo di uno degli appuntamenti più attesi di questo fine settimana appena trascorso, che non ha mancato anche di scatenare letteralmente il mondo web e social. Ron Moss ringrazia Grotta Zolina e gli organizzatori del suo concerto e del tour italiano. Grazie per aver creduto in me. Queste le sue parole, dunque. Grazie per aver creduto in me, per aver reso possibile questo tour così bello. Sono così grato per tutti i tecnici e per gli incredibili musicisti che rendono questa esperienza così bella. Ed è solo l'inizio. Così Ron Moss, alias Ridge Forrester della soap opera Beautiful, ha ringraziato il pubblico e intervenuto numeroso sabato sera a Grotta Zolina per la prima data dei suoi concerti in giro per l'Italia. La star americana è stata accolta da grandi applausi per poi dare il via al concerto. Chitarra alla mano e microfono ha conquistato il pubblico con i suoi brani che spazzano dal country folk al pop e rock. Un viaggio che toccherà molti altri comuni italiani all'insegna del motto USA meets Italy, un concerto che ha creato molta attesa nel territorio fermano e nelle Marche. Nelle settimane scorse che hanno anticipato l'arrivo di Ron Moss a Grotta Zolina, i social si sono letteralmente scatenati con battute e satira sull'arrivo dello storico Ridge di Beautiful. Un bel successo anche per gli organizzatori della festa di Grotta Zolina che mai come quest'anno ha fatto parlare di sé. Parliamo di turismo, da Kill Bill alla Sibilla fino all'Ambro un samurai porta in Giappone le nostre montagne. Ma sentiamo al riguardo Andrea Braconi. Sarà pezzo essere crocevie di leggende e figure che hanno segnato la storia e l'elettoratura mondiale, ma la zona di Sibillini riesce sempre a regalare qualcosa di spettacolare stagione dopo stagione. E forse, come racconta Nadia Buratti, residente ad Amandole e titolare di una struttura ricettiva alle Castellare di Colle Regnone nel comune di Montemonaco, è stato proprio il richiamo della Sibilla a portare qui Tetsuro Shimaguchi, maestro di spade e arti marziali, famoso attore e coreografo, fondatore della scuola Kenjido, creatore del gruppo Kamui The Samurai Sword Artists, nonché coreografo per le scene di combattimento di Kill Bill Vol. 1, un incarico fortemente voluto proprio dal regista Kenting Tarantino. Con il suo progetto internazionale Code of the Samurai, spiega Buratti, sta girando l'Italia per realizzare video e servizi fotografici da portare in Giappone, per far conoscere l'Italia meno nota, quella autentica, lontana dal turismo di massa. Dopo il disastro di Fukushima, il governo giapponese li ingaggia per realizzare video e spettacoli promozionali per rilanciare l'immagine di quell'area e far vedere al mondo che lì non è tutto finito. Oggi la sua straordinaria sensibilità lo porta qui per conoscere un luogo ferito dalla natura, ma vivo, un'affinità percepita da lontano, una connessione incredibile espressa attraverso la sua arte, che ci ha voluto regalare in questo luogo magico che l'ha colpito profondamente. Del passaggio di Tessuro, sulle nostre montagne, tra Santuario della Madonna dell'Ambro e Infernaccio, passando per Castelluccio, resta un affascinante video e qualche immagine, ma in cantiere c'è già un progetto di grande profilo che, se completato, potrà dare ancora più visibilità. Intanto, come rimarca la Buratti, ci si può accontentare della magia pura che il maestro è riuscito a regalare, avvolto dal silenzio e dal soffio di vento dei Sibillini. E torniamo a Fermo, dove si è svolta nei giorni scorsi nella Sala Assemblea della Cassa di Risparmio la premiazione della quinta edizione dell'iniziativa Primo Risparmio Carifermo Crea il Logo. Hanno partecipato all'iniziativa 1.645 allunni di 88 classi appartenenti a 36 plessi di scuole primarie. Il presidente di Carifermo S.P.A. Medeo Grilli, il direttore generale Ermanno Traini ed il consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo Marchetto Morrone Mozzi hanno premiato gli alunni intervenuti, complimentandosi per il lavoro svolto. La commissione, composta dall'architetto Giacomo Ortenzi, dalle persone della Banca, Bernarda Del Gobbo, Giulia Andreoli, Andrea Iommi e Franco Poggi, dopo aver visionato 335 elaborati, ha assegnato il primo premio alla classe seconda A della scuola primaria Giacomo Leopardi dell'ISC Falconara Centro di Falconara, nella provincia di Ancona, con la seguente motivazione. Salta subito all'occhio la composizione cromatica efficace da un punto di vista comunicativo soprattutto per un logo. Infatti il messaggio è subito evidente, chiaro e d'impatto. Risultato ottenuto con un accostamento di elementi e materiali diversi che donano dinamismo alla composizione e rafforzano il concetto di risparmio come forma di amore. I cuoricini bilanciano il denaro e di risparmi. Seconda classificata, la classe prima B della scuola primaria dell'ISC Falerone di Servigliano, terza la classe seconda A della scuola primaria dell'ISC Sud di San Benetto del Tronto, mentre la menzione speciale è andata alla classe quinta A della scuola primaria da Vinci di Falconara Marittima. Il logo vincitore sarà al centro della prossima campagna di comunicazione del deposito a risparmio, primo risparmio carifermo. Inoltre la classe della scuola primaria di Falconara ha ricevuto in dono una LIM, mentre la seconda e la terza classificata è stato consegnato un buono per l'acquisto di materiali di cancelleria. Porto Sant'Elpidio, il triathlon chiude alla grande, lo sport riempie la città, si chiude dunque la nona edizione dell'evento sportivo con il grande successo di pubblico, migliaia di atleti, si parla di 3.000 presenze, oltre 6.000 le persone per quanto riguarda l'indotto, strutture ricettive da tutto esaurito, ma sentiamo Pierpaolo Pierleoni. Si chiude con un bilancio decisamente positivo la nona edizione del triathlon a Porto Sant'Elpidio, un evento che per tre giorni ha visto gareggiare sul lungomare cittadino con quartier generale all'ex Orfeo Serafini ben 2.500 atleti di varie fasce d'età provenienti da tutta Italia. L'organizzazione della manifestazione, come sempre, è stata affidata alla Minerva Roma del presidente Marco Comotto. Gli organizzatori stimano, oltre agli atleti che hanno gareggiato, circa 6.000 presenze che hanno riempito Porto Sant'Elpidio nel weekend tra familiari ed appassionati di questa disciplina. Molto soddisfatta l'assessore Elena Murri, che parla di un autentico exploit, dice di aver percepito tanta adrenalina ed agonismo in tutti i percorsi, di aver visto tante famiglie presenti a tifare per gli atleti venuti da ogni regione. Soddisfatta l'amministrazione comunale anche per gli eventi collaterali che hanno arricchito il programma del triathlon, come la Maratona dei Mille in notturna svolta venerdì sera e l'evento di moda Sport Elegance di sabato sera, che si è tenuto nella rinnovata Piazza Garibaldi. E come ogni inizio settimana è arrivato il momento di fare il punto sul weekend sportivo, allora linea alla redazione di Cronache Fermana e Radio Fermo 1, Informazione TV, al nostro Paolo Gaudenzi. Sentiamo. Amici di Radio Fermo 1, un cordiale ben ritrovati anche in questo lunedì 3 giugno con la panoramica sportiva del weekend. Partiamo dal calcio e con il Porto Sant'Elpidio, che ieri al polisportivo dei Civitanova Marche ha regolato per 2-0 il Poggi Bonzi nell'andata di finale nazionale play-off di eccellenza. Grazie alle reti di Ruzziere Cejas, la compagine di Eddimengo salirà domenica prossima in Toscana per l'atto decisivo, con la possibilità di gestire il doppio vantaggio. Attiva anche la coda del campionato di prima categoria, dal sapore agrodolce per le fermane, dolcissimo per la mandola, che sabato ha liquidato nella finale play-off del girone di Real Virtus Pagliare. E sabato prossimo dibatterà così in campo neutro contro il Corridonia in quella che sarà la semifinale regionale, un percorso sportivo marchigiano a sfociare in promozione. In campo per lo stesso livello, sempre sabato, ma per ragioni legate al play-out, anche piane di Montegiorgio e Crottese, con i primi lesti ad imporre giallorossi un sonoro 3-0, che vale dunque la salvezza all'undici di mister Beppe Malloni, ma che di contro costa però la retrocessione in seconda categoria alla Crottese. Basket. Scaliamo nel cuore della settimana appena consegnata agli archivi, precisamente a mercoledì sera, quando la Sutor, premiata a Monteronaro in gara 4 di finale play-off di Serie C Gold, ha chiuso i conti con la Sicoma Valdiceppo Basket per 76-59, scalando il quinto livello sportivo in 5 anni dopo la ripartenza dal basso, e riassaporando così niente meno che la Serie B, il terzo livello gestistico nazionale. Un gradino sopra, dunque siamo in Serie 2, è arrivato ufficiale il rompete le righe in seno alla poterosa XL Extra Light Monteronaro, che nel mentre ha salutato il responsabile dell'area sviluppo Franco del Moro. Giovedì pomeriggio, infatti, il quintetto della famiglia Vigioni ha salutato tifosi e famiglie nel settore giovanile con una festa apposita allestita all'interno della Bombonera Veregrenze, mentre venerdì, presso lo Scea e Duilio di Porto San Giorgio, si è tenuto un aperitivo con sponsor ed istituzioni locali. E si chiude qui il nostro giornale radio, in studio Andrea Braconi, Paolo Paoletti, Giorgio Fedeli, Sandro Renzi, Pierpaolo Pierleoni, Alessandro Giacopetti e Tiziano Vesperini. Tutte le notizie in tempo reale su cronachefermane.it. Appuntamento alla prossima edizione.